Anche quest'anno Giulia Nuova ospiterà il Festival Internazionale delle Bande Musicali, 19esima edizione, Assessore D'Ignazio. Sono queste, anche queste, le manifestazioni che servono per favorire e promuovere il territorio abruzzese? Ci sono vari tipi di turismo e questo è un tipo particolare che richiama qui turisti sia dall'Italia, sia dall'estero, dall'Europa, ma anche dal sud d'America. Quindi siamo contentissimi di iniziare col botto quest'estate e ci saranno anche altri eventi di carattere internazionale nell'immediato che avremo qui in Abruzzo. Quindi credo che sia l'inizio di un pacchetto mare, monti e collina per la nostra regione importante. Quindi l'invito a essere presenti è un momento di festa, saranno dei giorni veramente in cui la musica, le maggiorette, tutto quello che riguarda un Festival delle Bande. Quindi si pensa al Festival delle Bande, oltre che alla bravura ovviamente e alla qualità, solo si pensa anche alla festa che rendono. Quindi è importante esserci, un invito a venire e un invito a essere accoglienti con i nostri turisti, perché insomma tutti gli sforzi devono essere poi aiutati insieme dagli operatori turistici. Ma su questo sono molto sereno perché so che abbiamo imparato bene a fare turismo, quindi credo che lo sforzo più grande sia quello di sostenere queste iniziative, di farlo come lo stiamo facendo, di farlo in futuro, questi tutti gli eventi che la regione ha selezionato e che ritiene siano proprio un veicolo di immagine importante per il nostro territorio. Quest'anno ci sono tantissime novità, la più prestigiosa è quella che è il fiore all'occhiello della manifestazione, è la presenza della Banda Reale della Marina Belga, una banda che parteciperà fuori concorso però che dà lustro al Festival. Altre novità sono delle bande del Sud America come il Messico, il Salvador e la Costa Rica, sono bande che per la prima volta vengono in Italia. La sfilata sul Lungomare per le misure di sicurezza sarà fatta sull'anella del Lungomare, ma la cosa più bella è il 2 giugno allo stadio, dove tutte le bande si possono esibire con caroselli, coreografie. Questa è una vista intenziale da non perdere.